Musica Martedì 7 ottobre 2014, buongiorno e benvenuti ad una nuova edizione della rassegna stampa dello sport a cura della redazione giornalistica della nostra voce.info Anche oggi andiamo a leggere otto pagine del quotidiano del sud e dell'edizione nazionale e provinciale del mattino che trattano soprattutto della gara di ieri sera, del pareggio di ieri sera a Terni dei lupi di Massimo Rastelli Iniziamo come al solito dall'edizione nazionale del mattino diretto da Alessandro Barbano che ovviamente parla del momento del Napoli di Rafa Benitez con i segreti di Cagliacone Anlistancabile, mi alleno giocando nel pezzo di Pino Taormina, capo canoniere del Napoli con quattro reti in sei partite da otto mesi sempre presente, 61 gare su 62 L'Atletico Madrid si è arreso in agosto Benitez e adesso sta facendo tutto bene Il taglio basso invece nel pezzo di Dario Cernataro è ufficiale la Supercoppa Juve-Napoli il 22 dicembre a Doha il presidente della Lega Calcio Beretta durante la conferenza stampa a Parigi nella fotografia in basso con il presidente di AZF sulla ITN e il vicepresidente della QFA Al Mohannadi che hanno appunto ufficializzato la sede e il giorno della Supercoppa Italiana che ricordiamo si disputa tra la vincitrice dello scudetto e la vincitrice della Coppa Italia della scorsa stagione quindi ad ogni club andranno 1.800.000 euro dall'agenzia che cura l'organizzazione L'evento è stato presentato a Parigi dal presidente della Lega Beretta che lo ha definito una grande opportunità per il calcio italiano e in realtà non si capisce per quale ragione si vada all'estero a giocare un trofeo italiano La favola di Lorenzo e Roberto, poker di gol e bomber d'Italia è stata infatti la domenica dei fratelli Insigne Lorenzo autore di una rete della rete del pareggio contro il Torino mentre il fratello Roberto in prestito alla regina di Ciccio Cozza ha siglato una tripletta nel sentitissimo derby contro il Cosenza la terza rete tra l'altro una rete davvero d'autore Lorenzo si sblocca, prima rete in campionato con Benitez e Fischi cancellati Andiamo a pagina 25 e passiamo alla serie B Come dicevamo, la gara del libero liberati di ieri tra Ternana e Avellino doppia rimonta e vetta più vicina Castaldo segna una doppietta e incanta il pubblico di Terni con una rovesciata spettacolare, scrive Luca Bucchi Gli Irpini salgono a quota 12 come vediamo nel grafico che rappresenta la classifica con il pareggio in Umbria raggiungono Frosinone, Carpi e Trapani e il Perugia capolista adesso è a meno 2 I biancoverdi impongono il pareggio alla Ternana, scrive Bucchi quinto risultato utile consecutivo e trovano nel loro bomber l'uomo copertina della serata Umbra per la squadra di Rastelli, Domenica, il Carpi al Partenio Lombardi e in taglio basso il pezzo di Gian Paolo Porreca il giro 2015 ignora il sud solo una tappa una tappa che parte da Benevento a San Giorgio del Sannio ma attraverserà tutta l'Irpinia Andiamo all'edizione provinciale del mattino diretta da Generoso Picone che chiaramente in taglio alto dedica un richiamo molto visibile al pari dell'avellino a Terni Castaldo alla Ibrahimovic, l'avellino non molla Domenica sfida col Carpi doppietta del bomber irpino una splendida rovesciata e un calcio di rigore a fil di palo Rastelli abbiamo fatto noi la partita Molino il grande ex avellinese con Gigi si vuole verso i piani alti Il Luigi d'Oro, scrive la collega Titti Festa Castaldo il tesoro reale dei lupi rovesciata ad autore del bomber un contrasto sembrava averlo messo KO poi la rapida ripresa fino alla fine e in taglio altissimo dopo la sconfitta di Trapani in Latina licenzia Beretta in panchina ritorna Breda in Latina che è partito con grandissime premesse una campagna acquisti di tutto rispetto ma all'esonero dell'ex tecnico del Siena ha contribuito anche la vittoria la vittoria del Francioni proprio dei lupi di Rastelli per 2 a 1 e Molino esalta il capitano è decisivo, gli riesce tutto è nel pieno della maturità e può raggiungere davvero traguardi importanti Molino però un campionato di C un campionato di C vinto con la maglia dell'Avellino nel pezzo di Riccardo Cannavale muove una critica ai Biancoverdi nel secondo tempo è scesa in campo la squadra che mi aspettavo concentrata, volentierosa e supportata da un Castaldo e conferma il suo ottimo stato di forma onestamente però mi aspettavo un Avellino con un piglio più aggressivo nella prima frazione Rastelli promuove l'Avellino una prestazione di carattere anche nel primo tempo siamo noi ad aver condotto il gioco scrive Luca Bucchi credo che la gente abbia assistito ad un grande spettacolo dice Rastelli in cui l'Avellino ha fatto la sua parte tatticamente li abbiamo limitati e questo sul terreno di gioco si è visto è un pareggio prezioso contro una compagine molto competitiva dobbiamo continuare su questa strada la mia doppietta non penso alla classifica cannonieri dice Castaldo perché prima di tutto viene la squadra dopo il rigore pensavo che potevamo addirittura vincerla però abbiamo affrontato una squadra forte e non ci siamo risparmiati noi nella Ternana Marco Ingino l'analisi dei riparti in campo una squadra matura votata al gioco d'attacco scelte tattiche azzeccate per oltre 30 minuti i lupi hanno dominato qualche sbavatura in difesa il riferimento chiaramente è alla è alla marcatura di Vergara sulla prima rete di Avenatti ma il collettivo ha evidenziato grande personalità chiudiamo il mattino di Avellino e andiamo al quotidiano del sud diretto da Gianni Festa che dedica la consuleta fotonotizia in taglio questa volta molto alto all'Avellino anche considerata l'importanza della gara di ieri straordinario Castaldo l'Avellino pareggia Terni in rimonta un capolavoro in rovesciata e un calcio di rigore di Luigi Castaldo e la didascalia della foto regalano un punto importante ai lupi di Rastelli andiamo all'interno andiamo all'interno e passiamo subito a guardare i pezzi dedicati alla gara di Terni con una foto che scavalla tra l'una e l'altra pagina con la rovesciata che è immortale la rovesciata splendida di Gigi Castaldo una rovesciata e un rigore della punta risollevano i lupi che strappano un ottimo pari l'analisi Schiavon e il cuore del centrocampo Zito e Bittante sono in crescita ma il condottiero è sempre lui il leader indiscusso è sempre Rastelli l'uomo di copertina della serata è Gigi Castaldo vero trascinatore attaccante imprescindibile per le sorti dell'Avellino la difesa ha retto abbastanza ma sul primo gol della Ternana ha colpe soprattutto Vergara che si è lasciato sfuggire a Venatti come dicevamo il centrocampo un plauso a Schiavon come sempre brillante e pronto a scoccare il suo dardo dalla distanza procurandosi anche il penalty decisivo per il 2-2 firmato sempre da Castaldo le due fasce hanno risposto bene sempre quelle di centrocampo da Zito Zito che sta ritrovando piano piano la forma migliore e Bittante ha disputato una gara ordinata anche egli sta ritrovando la miglior condizione fisica e mentale in attacco Comi ha mancato un paio di volte la rete ma il suo contributo in avanti è stato come al solito importante andiamo a dare un'occhiata alle pagelle alle pagelle tra i 6 Egomis 7 a Pisacane ed Eli 5 a Vergara 7 anche a Schiavon e Zito spicca però il 9 a Castaldo vola in testa tra i cannonieri fondamentale il 7 anche all'allenatore Rastelli che si dice orgoglioso di tutta la squadra un buonissimo primo tempo anche se abbiamo perduto diversi palloni nella ripresa abbiamo poi disputato un'ottima gara così meritatamente abbiamo conquistato un pareggio dorato perché potevamo vincerla ma allo stesso tempo perdere questa gara sul gol di Avenatti siamo stati abbastanza ingenui non tutto quindi è andato per il verso giusto dice Tesser dall'altro lato invece dice scusatemi Rastelli mentre dall'altro lato invece Tesser si dice rammaricato per il risultato finale siamo stati rimontati due volte e non siamo riusciti a portare a casa il risultato finale ma alla fine la prova dei miei mi è piaciuta perché ci hanno provato fino alla fine diciamo che sono parzialmente soddisfatto è la è la disamina di Tesser che ci fa abbandonare anche il quotidiano del sud per andare su otto pagine diretto da Luciano Trapanese in spalla a destra la fotonotizia con l'esultanza di Gigi Castaldo a fine partita doppia rimonta terni nel segno di Gigi Castaldo e i biancoverdi ora sono secondi e andiamo andiamo subito all'interno andiamo subito all'interno del quotidiano un pari d'oro Lavellino impatta Liberati ed è secondo Super Castaldo riprende Avenatti e Viola scrive Marco Festa la fotonotizia la fotografia in in taglio alto appunto è anche questa però da un'altra angolazione un fotogramma dello splendido gesto atletico e acrobatico da parte di Gigi Castaldo Rastelli soddisfatto per il pareggio nell'articolo di Daniele Miceli Ternano in salute risultato giusto per il tecnico dei Lupi è un punto pesante la doppietta dice Castaldo è una grande reazione di fiducia per la squadra la prestazione è stata più che buona afferma il tecnico dei Lupi affrontavamo una squadra ottima frizzante in salute e con tanti buoni giocatori per noi era un esame importante Rastelli si sofferma anche con l'abbraccio del pubblico al termine della gara da pelle d'oca dice è l'immagine più bella noi siamo tosti e non posso che essere orgoglioso di questi ragazzi l'anno scorso questa partita l'avremmo persa abbiamo dato un segnale di grande maturità e anche 8 pagine nelle pagelle di Marco Festa regala un 9 a Gigi Castaldo che appunto è impossibile non partire dal primo gol provarne a descriverne a pieno la bellezza è una missione impossibile consueta foto storia poi pagina 34 e 35 della gara la corsa continua e il titolo Ternana Avellino 2 a 2 arriva il quinto risultato utile di fila per i lupi e l'immagine dei tifosi dei tifosi irpini in quella di Terni parla da sé perno ungherese scivoliamo sul basket sulla Sidigas che si appresta alla prima di campionato contro Venezia domenica Adam Hanga nel pezzo di Alessio Bonazzi e alla piccola titolare della Sidigas arriverà all'esordio di domenica contro Venezia dopo aver brillato nel pre-campionato e sarà uno dei tasselli più importanti all'interno del roster della Scandone che da ieri è entrata ufficialmente nella settimana che porta all'esordio di campionato contro Venezia se l'anga delle prime uscite della pre-season appariva ancora impacciato e troppo poco coinvolto dal resto della squadra quello ammirato contro Cremona nel torneo città di Caserta e nella due giorni marchigiana ha fatto segnare un netto cambio di tendenza l'ala piccola farà da anello di congiunzione fra reparto esterni e settore lunghi afferma Bonazzi Lega Pro Benevento senza colpa pur senza voler creare degli alibi all'amaro epilogo sulla sfida di Melfi appare gravissimo l'errore dell'arbitro che ha spulso Aghiei senza che avesse toccato il pallone con il braccio scrive Franco Santo a tagliare le gambe ai giallorossi soprattutto la prima rete poi è stata notte fonda ma come si fa a considerare immune da colpe il signor di giudici di Latina l'espulsione di Aghiei è assolutamente inesistente il ganese non tocca il pallone col braccio che eventualmente gli rimbalza sulla parte posteriore del gomito chiaramente a sua insaputa e a pagina 39 bollettino dall'infermeria Vitiello che solleva Piscitelli è uno scherzo della strega ma torno presto il portiere ironizza e si trova su dovrà star fermo per due mesi strappo allo Psoas per il centrocampista tre settimane di stop nel pezzo di Sonia Lantella vediamo appunto il bollettino Riccardo Piscitelli per lui una doccia fredda il giovane portiere dovrà star fermo per due mesi a causa di uno strappo allo Psoas muscolo interno dell'anca sopra al retto femorale situazione diversa quella di Vitiello che dovrà stare fermo non più di tre settimane avendo rimediato una distorsione di primo grado al collo del piede sinistro pagina 41 speciale Giro d'Italia la corsa rosa torna nel Sannio Benevento San Giorgio di 212 km sarà la nona tappa di domenica 17 maggio 2015 il percorso completo del Giro d'Italia è stato ufficializzato ieri e partirà da Sanremo il 9 maggio si parte nel pezzo di Michele Iacicco vediamo che si partirà dalla Dormiente per attraversare l'Irpinia con le scalate del Terminio del Colle Molella e del Passo Serra prima dell'arrivo in Viale Spinelli a San Giorgio del Sannio c'è già grande attesa per la sfida tra Nibali e Contador Bene era l'ultima notizia l'appuntamento è per domani mattina alla stessa ora con la rassegna stampa dello sport a cura della redazione giornalistica della nostra voce punto info attraversare